Due imperativi categorici, provare a non soffrire di vertigini e soprattutto mantenere la giusta dose di equilibrio. La vittoria di domenica al D'Angelo contro il Fasano ha regalato al team Altamura la seconda posizione in classifica a tre lunghezze della capolista Casarano. La graduatoria è ancora però parziale in virtù dei tanti recuperi da disputare, ben tre ad esempio quelli già accumulati dal Taranto hanno giocato una gara in meno anche Picerno, Lavello e Sorrento. L'attuale piazza d'onore però gratifica senza alcun dubbio gli sforzi della società del presidente Michele Calia e il lavoro del tecnico Alessandro Monticciolo. Bisogna stare sempre con i piedi per terra ma noi siamo abituati a farlo. È comunque una squadra che è da due anni, che ha da due stagioni più che altro, che ha questo credo di gioco grazie al mister. Abbiamo una struttura, una buona ossatura dell'anno scorso, quindi sono dei ragazzi che si conoscono, hanno fatto gruppo. È un gruppo importante, ci sono tanti under, secondo me la differenza anche rispetto agli anni passati sono anche gli under. Oltre ad avere giocatori importanti abbiamo degli under davvero forti e interessanti. C'è una bella amalgama, bisogna assolutamente stare con i piedi per terra e andare avanti, ma io credo che lo sappiano i ragazzi, che lo sa il mister. Però è anche giusto essere competitivi e puntare sempre in alto. La dirigenza del team Altamura ha provato sino a ieri sera a piazzare il colpaccio Domenico Santoro, l'ex attaccante del Gravina, nella prima parte di stagione in forza al Monopoli in C. Alla fine però ha scelto di dire di sì al Casarano. I murgiani in ogni caso restano attivi sul mercato alla ricerca di un elemento per il reparto offensivo. Da aggiungere a croce, bozzi e tedesco, Samuele Spano, pupillo di Monticciolo, attualmente di proprietà del Cienzialba Longa, resta una pista credibile. Spano, sai bene che abbiamo cercato di inserirci anche perché volevamo accontentare il mister, perché è un ragazzo che lui conosce bene, ha avuto in passato come allenatore. Sicuramente ci abbiamo provato, però era un po' complicato perché la società di appartenenza non voleva lasciarlo andare via. Pare che ci siano delle novità, però vediamo un po' che succede. Al momento attendiamo e vediamo un po' l'evolversi della situazione. Chissà se ci saranno novità di mercato già in vista del Super Derby di domenica prossima al Vegli Ulivi contro la Fidelisandria. Di sicuro il team Altamura proverà contro i Biancazzurri a dare continuità ai propri risultati. Affrontiamo una squadra molto dura, nel senso una squadra ostica, difficile da abbattere, che in casa, non so, forse avrà perso, forse mi sa che ha perso col Picerno, però è una squadra molto dura, è una squadra un ottimo organico. Però, ripeto, siamo consapevoli della nostra forza.